Cercano di fare il grande salto e si rendono conto che effettivamente rimarranno senza pensione e si stanno iniziando a pensare al futuro per fare il grande passo e diventare insomma un po' più autonomi e indipendenti. Per il debutto nazionale hanno scelto la città dalla quale parte la storia, Bari. Qui Mimuccio, dopo quasi 30 anni sotto il controllo di Mazinga, boss che gestisce il mercato della cocaina, vuole il suo riscatto e cerca di coinvolgere il suo amico e collega di sempre, Michele in un cambio vita verso le Galapagos, ma riuscirà a coinvolgerlo? Una crime story tutta da ridere, quella che nel fine settimana è in scena al chismet del capologo pugliese. Si chiama Vamos, il nuovo spettacolo scritto da Andrei Longo con la regia di Susi Laude in cui Dino Abrescia e Gianluca Gobbi vestono i panni di due scansonati malavitosi. Il fallimento in realtà è totale di entrambi, è un fallimento esistenziale direi. Forse c'è la liberazione, noi non lo sappiamo. L'espiazione, se vuoi, sì. Forse è un'espiazione. È un'espiazione, sì, in realtà sì, perché è un testo che parla molto di amicizia. Inevitabilmente con la sua presenza il richiamo alla Capagira c'è. Capisco, capisco, può essere che. C'è un scavotage. Capisco, però Minuicchio della Capagira, alla luce di quello che è successo appunto in quel grande capolavoro di film che abbiamo fatto vent'anni fa, si immaginava che sarebbe diventato qualcosa di più, insomma, un boss. Ecco, non immaginavo che vent'anni dopo Minuicchio sarebbe diventato un perdente, insomma, un manovale della... Per questo io non penso che... non la vedo come una continuità storica di Minuicchio, no. Eh, Vamos è uno spettacolo che abbiamo sentito molto, abbiamo deciso di portarlo a Bari come presentazione del nostro lavoro perché ci teniamo molto a venire a casa, perché anche se io sono nordica, comunque ormai un po' di Bari lo so, dopo 13 anni.